Salve, salve a tutti, buon pomeriggio, sto registrando infatti questo video cari amici di pomeriggio. Allora, sono qui di nuovo con voi per insegnarvi un rituale o incantesimo, chiamatelo come volete, molto potente, molto poderoso come si suol dire, per tutte le situazioni in cui noi abbiamo bisogno di denaro urgente, per tutte le situazioni in cui c'è bisogno di liquidità, di soldi e quindi ci troviamo in difficoltà, oppure anche abbiamo bisogno di qualche soldo in più, di un po' più di abbondanza nella nostra esistenza. Questo rituale ovviamente da tutti fattibile perché nel canale non faccio, non propongo cose particolarmente complesse, propongo ovviamente lavori importanti, antichi, soprattutto antichi, di matrice umbandista, afro-brasiliana, voodoo, udu, eccetera, che sono realizzabili da chiunque. Perciò, carissimi amici e carissime amiche, carissimi tutti voi che credete nella spiritualità, andiamo un attimino a spiegare, perché è molto semplice, come si fa questo rituale per avere urgentemente del denaro, dei soldi, ok? Allora, vi faccio vedere intanto gli ingredienti. Vi servirà un piatto, un piatto normale, magari non ci sono grosse formalità, un piatto ben pulito. Vi servirà una candela gialla, che vedete già accesa tra l'altro, sette foglie di alloro, io ne ho prese anche un po' di più a dir la verità. Vi serviranno, le vedete, sette monete dorate, tutto nel sette, quindi sette foglie dell'oro, sette monete dorate. Poi vi servirà un vostro oggettino, un vostro monile, può essere, io ho usato una catenina, come vedete, però può essere un anello, può essere una spilla, può essere una medaglietta. L'importante è che sia vostro e sia d'oro, quindi piccolino quanto volete, scegliete voi un vostro oggetto personale di oro. Ci spostiamo un attimo. Whisky, io ho usato il Ballantines, quindi chiaramente con un bicchiere ben pulito, whisky. Allora, un'altra cosa, mi raccomando, accendete la candela usando i fiammiferi, poi vi spiego per quale motivo, ovviamente. Se lo gradite, sempre gradito comunque da tutte le entità, dagli spiriti, accendete un incenso. In questo caso io ho acceso un incenso con una vibrazione molto attinente, cioè ho acceso un incenso alla cannella, però potete accendere un incenso di vostro gusto e gradimento. Questo lo vedete voi, va bene? Quello che è importante è avere, come vedete, inquadro un pochino meglio con il telefonino, il piatto dove noi faremo la nostra richiesta a una grandissima e bellissima entità della Kimbanda afro-brasiliana che è Eshu d'Oro, cioè Eshu dell'Oro. Andiamo a chiamare la forza, la vibrazione, l'assistenza di questo grande Eshu, di questo grande spirito che presiede alla prosperità, sia interiore che esteriore, ovviamente. In questo caso Eshu d'Oro, Eshu dell'Oro, è colui che ci verrà in soccorso mandandoci per vie che ovviamente io non so nemmeno spiegarvi perché la magia ha delle vie abbastanza a volte sorprendenti, infinite, non è detto che sia una fonte scontata, però quello che c'è da sapere è che si è fatto tutto sempre con rispetto, con fede, qualsiasi nostra richiesta, qualsiasi nostra forma di ritualistica ha esito. Certamente a volte ci sono casi dove ci sono più fattori di energie contrastanti, problematiche, allora bisogna avere un pochino più di pazienza, bisogna ripetere talvolta il lavoro e talvolta magari può servire anche l'aiuto di una persona un pochino più esperta. Tuttavia quello che vi vado a presentare nel mio canale sono lavori testati antichi che in genere danno degli ottimi risultati e io vi auguro davvero di cuore di poter conseguire nella vostra propria urgenza finanziaria tramite l'energia bellissima di esciù d'oro, cioè esciù dell'oro, di conseguire rapidamente, di risolvere il vostro problema finanziario. Allora come si va? Come si fa soprattutto? Come si procede? Si allestisce chiaramente un piano in un posto tranquillo della vostra casa. Potete fare questo rituale sempre, cioè nel senso che non andiamo a guardare esattamente l'orario, la lunazione, il giorno. In realtà ci sarebbero anche questi fattori, però l'entità lavorano anche a prescindere dalle lunazioni, dai giorni e dagli orari. Sono un pochino più in alto a volte di noi, perciò sono disposte a venire in nostro soccorso in qualsiasi momento. Infatti facciamo questi lavori proprio per emergenze, per situazioni che non sono di divertimento puro, ma proprio per chiedere soccorso e aiuto. Quindi voi cosa fate? Vi procurate dell'alloro, ne bastano sette foglie, quindi non fate come me che ho strappato un'intera pianta, ne bastano come vedete sette foglie. Vi procurate sette monete dorate che dovete collocare sopra le foglie di alloro con il valore della moneta in alto, ok? Quindi il numerino che siano, che ne so, 10 centesimi, 20, 50 centesimi, il valore deve stare in alto. Poi appoggiate sul piatto, sul piatto di lavoro, il vostro oggetto personale d'oro a piacere, qualunque esso sia. Vi procurate una candela gialla, perché ovviamente il giallo è il colore dell'oro, è il colore della prosperità. Se volete nulla vieta, anzi può andare benissimo. Se avete una candela dorata potete usare ovviamente anche la candela dorata. E poi un bicchiere ovviamente ben pulito, che riempirete di whisky, che verrà offerto chiaramente come offerta energetica, come nostro ringraziamento, a Eschou d'Oro. Una volta che avete appunto preparato il piatto, quindi avete messo le foglie, sulle foglie avete collocato le monetine dorate, ovviamente dorate, con il valore in alto. Una volta che avete messo anche il vostro oggettino personale d'oro, prendete un fiammifero, chiaramente fate scaldare la base per attaccare la candela e accendete la candela e ovviamente riempite il bicchiere di whisky. Poi, se volete chiaramente accendere anche un incenso, va benissimo. E a questo punto, con grande, grande fede, mentalizzando il nostro desiderio, il nostro problema finanziario, mentalizzando dentro di noi senza angoscia, con molta calma, mi raccomando, siate fiduciosi, perché se siete in uno stato chiaramente disarmonico, le energie avranno un po' di difficoltà. Quando fate i lavori, siate sempre estremamente fiduciosi, calmi. Gli spiriti ci ascoltano sempre, sono sempre intorno a noi. Quindi, una volta che avete preparato questa offerta, ok? Che avete preparato il vostro whisky, che avete acceso la vostra candela, vi raccogliete un attimino e chiamate eschudo oro, dicendo così. Saravà eschudo oro e mojubà. Saravà eschudo oro e mojubà. lo chiamate tre volte e gli fate la vostra richiesta, a parole vostre. Adesso non vi sto a mettere l'orazione o le orazioni, chiaramente, che si usano, magari, nelle forme rituali un pochino più complesse. parlate a parole vostre. Lo chiamate eschudo oro. Saravà eschudo oro e mojubà. Saravà eschudo oro e mojubà. E a parole vostre, per dire, per fare un esempio, caro eschudo oro, ti ho chiamato, ti offro questa candela, ti offro questo piatto, ti offro questo whisky, ti offro la mia fede, affinché tu possa aprirmi le strade all'abbondanza, affinché tu possa far pervenire a me il denaro che mi necessita e di cui ho tanto bisogno. vi raccogliete, di nuovo, mentalizzate quello che volete ottenere, salutate di nuovo eschudo oro, grazie, dicendo grazie eschudo oro per tutto ciò che mi farai avere. E lasciate consumare, chiaramente, la candela fino alla sua naturale fine. Poi, una volta finito tutto, ovviamente, potete recuperare sia il vostro oggetto d'oro, potete recuperare le vostre monete, le foglie di alloro, non le buttate esattamente nella spazzatura, ma le mettete nell'erba, in un giardino, sotto una pianta, in un luogo chiaramente naturale, fosse anche un'aiuola, fosse anche proprio un vaso, ecco, non le buttate mai nella spazzatura. Lo stesso, il whisky, non lo buttate nello scarico del lavandino o del water, peggio ancora, ma innaffiate di nuovo il solito vaso, oppure quel pezzetto di prato che avete, quella pianta, eccetera, eccetera, sempre in natura. Queste sono cose che non vanno buttate in luoghi un pochino irrispettosi. Quindi, il lavoro è finito, molto semplice, tanta fede, tanta energia positiva e vedrete che in breve, breve tempo Eshoo vi darà, Eshoo d'oro vi darà una grossa mano. Poi, nulla vieta che voi potete rifare il lavoro quante volte volete, per dire se volete farlo una volta, fatelo una volta e aspettate. Se volete farlo dopo tre giorni o dopo sette giorni, potete rifarlo tranquillamente. È tutto qui, è molto semplice. Chiunque può farlo, se ha un minimo di tranquillità, chiaramente gli elementi sono semplici da reperire, non ci sono cose complicate. E quindi, a tutti, di nuovo il mio affettuosissimo saluto e soprattutto la grande energia, la benedizione di Eshoo d'oro, questo generoso Eshoo dell'abbondanza, che vi porti veramente abbondanza, denaro, prosperità e aiuto. Un bacio da Simonetta e a presto. Grazie.